bentornati alla rubrica insetti in pillole oggi parliamo di tarli del legno quelli che vedi nelle immagini sono tarli di piccole dimensioni fanno fuori di un diametro ridotto e sono tipici dei mobili il metodo di lotta più efficace per eliminarli consiste nell'inserire i mobili infestati in una camera di varie dimensioni a seconda delle necessità che verrà poi saturata di anidride carbonica questo trattamento viene fatto a domicilio è completamente ecologico efficace al 100% e sicuro per i mobili il tarlo che invece vedi in queste immagini è di dimensioni maggiori fa fori più grandi ed è tipico delle travi la larva che mangia il legno all'interno e che spesso si può sentire ad orecchio nudo si trova a 5 6 centimetri di profondità motivo per il quale gli insetticidi sono totalmente inefficaci il sistema migliore per questo tipo di tarlo è sicuramente il micron wood un sistema a microonde completamente ecologico garantito ed efficace al 100% e totalmente sicuro per il legno da trattare le microonde scaldano il legno cuocendo il tarlo a qualsiasi stadio vitale